Buongiorno a tutti voi, ben trovati a questo appuntamento che potremmo definire speciale di itinerari domenicali. È stata una settimana importante dal punto di vista del nostro cammino spirituale, abbiamo vissuto questa solennità importantissima dell'assunzione di Maria Vergine al cielo, ma vogliamo parlare anche di riflesso di lei attraverso una figura straordinaria, quella di Framo Destino Fucci, perché proprio il 14 abbiamo ricordato, tra l'altro, la data della sua nascita al cielo. E allora lo faremo con delle testimonianze belle e profonde. Ma intanto per ricordare ai nostri telespettatori chi è stato Framo Destino Fucci, un breve servizio. Costante gli valse la fiducia del santo di Pietrelcina, che lo considerava uno dei suoi più fedeli collaboratori. Framo Destino divenne celebre per la sua semplicità e la sua profonda spiritualità. Era noto per le sue lunghe ore di preghiera e per la sua dedizione all'ascolto, accompagnando i fedeli con parole di conforto e di saggezza. Fu anche un uomo di grande umiltà, sempre pronto ad aiutare i bisognosi e a sostenere coloro che cercavano la pace interiore. Framo Destino si spense il 14 agosto del 2011, lasciando un grande vuoto nella fraternità dei Cappuccini e tra i fedeli che lo consideravano un vero e proprio punto di riferimento. La sua tomba a Pietrelcina, sua terra natale, è oggi meta di preghiera per tantissimi devoti. La sua vita, segnata dalla preghiera, dall'umiltà e dall'amore per il prossimo, rappresenta un esempio luminoso di come la fede possa essere vissuta in modo semplice e autentico. Framo Destino Fucci è ricordato come un custode spirituale di quel messaggio d'amore e misericordia che, lasciatoci da Padre Pio, continua a ispirare milioni di persone nel mondo. Dunque, quella di Framo Destino è stata una vita vissuta sotto lo sguardo della Madonna di San Francesco e San Pio. E questo è proprio il titolo che una testimone diretta, una figlia spirituale, possiamo definirla così, di Framo Destino Fucci, ha dedicato a questa figura di frate, il libro di Angioletta Parrilla, che oggi è qui con noi nei nostri studi per portarci la sua testimonianza. Ben trovata, Angioletta. Grazie, pure a voi. Vi ringrazio di avermi invitato per poter parlare di questa grande figura straordinaria. Che tu hai avuto modo di conoscere molto bene per più di vent'anni. Per più di vent'anni, sì. Ecco, allora iniziamo subito parlando di quello che è stato il primo incontro. Come hai conosciuto innanzitutto Framo Destino? Allora, io ho conosciuto Framo Destino innanzitutto per volere di Dio, perché per dirlo come avrebbe detto Framo Destino, non c'è foglia che si muove se Dio non voglia. E anche perché, come lui asseriva, dice tu sei venuta qui a San Giovanni Rotondo per volere del Signore, che a Beterno aveva destinato la nostra conoscenza. E quindi è tutto. E penso che pure le altre conoscono, hanno conosciuto Framo Destino per volere di Dio. Perché ogni persona è arrivata a lui con una storia. Se vogliamo raccontare la storia delle nostre conoscenze con Framo Destino, ci vorrebbero libri e libri. Perché mentre cercavi di conoscerlo, arrivavano peripezie da superare, eccetera. Perché? Perché il demonio non voleva farcelo conoscere. Non a me, ma a tutti, penso, dalle mie ricerche che ho fatto, dalle testimonianze che pure ho scritto nel libro, si ricava questo. Quindi, ognuno ha questa lunga storia. E io ho una lunga storia. Allora, non la racconterò nei dettagli, altrimenti ci vorrebbero ore e ore. Sarò concisa e la dirò brevemente. Allora, nel 91, a mio nipote, o mio nipote, ne ho tanti, fu diagnosticato un principio di distrofia muscolare. E proprio grazie a questa malattia che io ho conosciuto, ho potuto conoscere Framo Destino. E allora, cioè, immagino un po', dopo quando uno sa una notizia così, tutta la famiglia è in subbuglio, eccetera. E allora ho cercato, siccome avevo conosciuto nel febbraio del 91, Natuzza Evolo, la mistica di Paravate, con cui ebbe un rapporto confidenziale a tu per tu, le mandai a dire tramite il sacerdote se quello che avevano detto, la diagnosi del medico fatta a mio nipote, fosse giusto o meno. E Natuzza mi mandò a dire che dovevamo seguire il consiglio dei medici. Però io non paga di questa risposta, non so perché. Chiedevo, cioè andavo alla ricerca di altre persone carismatiche per affidarle alle loro preghiere. E così tramite un'amica, seppi, tramite un'amica, telefonai al dottor Lauro Paterling, di Salzo Maggiore, quindi lontano, perché mi avrebbe detto qualcosa in merito di mio nipote, perché ero un uomo di Dio, come esseriva questa amica. Gli telefonai e subito mi disse, tu devi telefonare a Framo Destino da Pietralcino. E chi è questo Framo Destino? Perché parliamo del 91, io non sapevo niente. Ha detto, come? Non conosci Framo Destino da Pietralcino. Tutti lo conoscono, tu abiti nel sud e non lo conosci. È il portinaio del convento di San Giovanni Rotondo, il seguace di Padre Pio. È un uomo santo di Dio, vai, e ti darà la risposta giusta. Tu devi, imperativo categorico, tu devi chiamare lui. Non avevo il numero di telefono. Ho girato tutte le riviste in voce di Padre Pio, alla quale ero abbonato. E qui anche una lunga storia per avere questo abbonamento, che fu un... Io definisco un caso, però per dirla con Framo Destino, il caso per Dio non esiste. E quindi niente numeri, cercavo di vedere la figura di Framo Destino, me l'immaginavo diverso, un uomo santo, un uomo in preghiera. E allora, ebbe, dopo tanti giri e rigiri di riviste, ebbe l'induizione di chiamare il centralino, di come diranno qualcosa. Perché il suo nome non compariva su nessuna rivista. Al che telefonai il signor Umberto, era centralinista, di Milano, figurati, qui c'è tutta l'Italia, a San Giovanni Rotom. L'Italia e anche le varie nazioni, il mondo, tutto il mondo. Telefonai, il signor Umberto mi rispose, e mi disse, sì, sì, te lo passo subito, con una cordialità, veramente, che mi stupiva. La stessa cordialità che ha avuto Framo Destino e il primo impatto telefonico con me. Mi disse poche parole. Bella guagliò, che mi devi dire? L'ho detto il fatto di mio nipote, mi hanno detto così. Io prego, offro la mia vita per lui, tu devi venire qui. E mi ha invitata a venire qui a San Giovanni Rotom. Dunque il primo incontro. Il primo. E quindi, no, però non venne subito, perché siccome insegnavo, aspettai la chiusura delle scuole. Però dopo questa telefonata, lui disse, chiamami ancora, se vuoi, chiamami quanto vuoi, eccetera. E così io lo chiamai spesse volte, prima di incontrarlo. Quindi c'era un rapporto, un primo approccio telefonico. E quindi mi sentivo già familiare quando venne qui a conoscerlo. Poi venne e mi ricordo il primo incontro, mi accodai alla fila. Mi sistemai in albergo e venne qui in portineria. Mi accodai alla fila, una lunga fila c'era. E non dissi niente. È arrivato il mio turno e io ho stato zitta, perché altrimenti mi avrebbe riconosciuto dalla voce. Mi ha guardato e ha sorriso. Ehi, guaglio, tu non mi fai scema. Tu sei angioletta. Mi ha detto. E quindi da allora poi mi ha fatto aspettare, abbiamo parlato. Però di mio nipote non parlavamo più. Di mio nipote tutto. Quindi è stata una scusa, diciamo. La scusa di incontrare lui, il perno principale, il movente principale, è stata la malattia di mio nipote. Quindi da quel momento poi questo rapporto si è stretto sempre più. Io mi sentivo familiare in questi luoghi. Era come se... Mi sentivo proprio familiare. Cosa ricordi allora di lui, di questi momenti? Sicuramente tanto tu già lo hai espresso in maniera molto approfondita anche all'interno del libro stesso. Ecco, ma cosa ci puoi raccontare di queste esperienze? Allora, ricordo tutt'ora, io rivedo e ricordo Fra Modestino come una figura impegnata in un far di Dio faceto, allegro, che ti dava tutto. E ti emozionava e allo stesso tempo ti stupiva. Ti stupiva per le sue qualità interiori. Perché riusciva ad essere... era semplice e la sua semplicità la vedevano tutte. Era una semplicità genuina che diceva quello che sentiva e basta e ti metteva molto a tuo agio. Poi ricordo le straordinarie... quindi tutte queste straordinarietà toccavano il mio cuore, è ovvio, e io mi stupivo. Poi al volta è il linguaggio. Alcune persone dicevano che non lo capivano. Io lo capivo benissimo. E poi le sue parole, io mi dicevo, dico, è un anziano. Dico, non ha studiato psicologia, non ha studiato... come fa a capire le persone? Io, cioè, cercavo di trovarmi una risposta. Dico, com'è diverso, sa capire tutto, non è come tutti gli anziani in genere, eccetera. Quindi aveva delle doti particolari. Quindi era molto semplice, era molto disponibile con tutti e qui nella disponibilità dobbiamo vedere il senso di carità che aveva Fra Modestino. Ecco, Angioletta, allora di questo vogliamo parlare in maniera anche più dettagliata, ma lo facciamo subito dopo una pausa. Ci ritroviamo insieme subito dopo questo spazio, diciamo, di attesa per ritornare a parlare di Fra Modestino. Ci vediamo nella seconda parte. E torniamo dunque in compagnia di Angioletta Parrilla per continuare a parlare di Fra Modestino. Parlavamo, Angioletta, della sua carità, della sua semplicità, ma anche di questa apertura verso il prossimo. Molto, molto. Allora, era disponibile per la sua carità. Perché se non c'è interiormente un senso caritativo, chiama Gesù è caritatevole e lui aveva questo nel cuore. Ecco perché era disponibile con tutti e le lunghe aveva una grande capacità di ascolto appunto per la carità che dimostrava verso tutte. Lui diceva che non... cioè lui non mancava di carità. Perché a volte, quando mi dava dei consigli, no, no, non devi mancare di carità. E questo è tutto. Questo è tutto ti fa aprire le braccia al Signore, il cuore al Signore. Capacità di ascolto, le lunghe file dei pellegrini lo testimoniano ampiamente. Infatti basta pensare che la notte facevano ore e ore di file per poter parlare mezzo minuto, diciamo, anche per poter avere una benedizione da lui. e anche la notte dormivano. Mi sono capitate persone, me le hanno raccontate persone, quindi non sono cose che... sono cose che ho visto perché io quando venivo la mattina, quando abitavo qui, venivo qui nei miei pellegrinaggi che definirei solitarie, solitarie perché erano vincolate al mio rapporto con lui. Perché lui mi parlava di questa spiritualità, mi parlava di Dio, della Madonna, della vita interiore soprattutto. Perché il perno di Fremodestino, la grandezza di Fremodestino è la sua vita interiore, nella quale... perché viveva un rapporto intessuto d'amore con Gesù. Ecco, Angioletta, sono sicuramente tanti ricordi, come diciamo, tanti insentimenti che... Poi un'altra qualità, Nicola, che è molto importante, è l'umiltà, la sua umiltà. Ogni sacerdote che vedeva, quando lo incontravamo, che camminavamo insieme, si faceva, si chinava e si faceva dare la benedizione. Che grande senso di umiltà. Ricordiamo, perché Fremodestino, tra l'altro, era fratello laico, non è mai diventato sacerdote. Anche in questo ha dimostrato tanta, tanta umiltà, proprio nel seguire le tracce di San Francesco a pieno. Esatto, bravo. E anche l'ubbidienza. Legata all'umiltà c'era l'ubbidienza. Non faceva mai una cosa senza l'ordine del superiore e del confessore. Anche le cose che diceva a me, se mi parlava di Padre Pio, i libri che ha fatto, per esempio Padre Pio sulle orme del Vangelo, chiedeva l'ordine al superiore. E quindi lavoravamo insieme. Cioè era proprio ubbidiente al massimo. Perché diceva che l'ubbidienza fa sante. Devi essere ubbidiente pure a scuola. E quindi, prima di ricevere le anime, fra Modestino, andava dal superiore a farsi benedire. E quando io venivo qui, mi portava dal superiore per benedirmi. O comazzo, ricordo. Questo è un frate, diceva a me. E quindi sono stati gli anni migliori che mi ha lasciato. Mi ha lasciato tutto. Ecco appunto. Diciamo questo, Angioletta. Gli anni migliori della mia vita. Tanti insegnamenti in questi anni, tante esperienze avute grazie al suo consiglio, alla sua parola. Ma se dovessimo riassumere appunto quanto ti ha lasciato, cosa potremmo dire? Mi ha lasciato tutto. O meglio, un percorso di vita da seguire, un cammino spirituale e da seguire per i segni tangibili che è della sua grandezza che ho toccato con mano. e quindi, ecco perché non è per vanaglorio o cose, queste cose per me non interessano perché vedevo in Lugli veramente un grande uomo di Dio. Veramente, lui diceva che, asseriva che non ci sarà sulla terra un grande, la raucetina per via dell'aria condizionata, e non ci sarà sulla terra un grande santo, un santo e grande come, mai più un grande santo come Padre Pio. E io asserisco che non ci sarà più un grande uomo di Dio come, come Fra Modestino. Perché lui viveva di Dio e viveva con Dio. quando non poteva, viveva di Dio nella sua gioiosità, la gioia, poi era un'altra dote principale. Prima di ricevere, per mettere a suo agio le anime, raccontava delle barzellette in modo che poi andavano da lì e si aprivano, ecco, un'altra dote. E lo faceva con gioia, raccontava quelle barzellette, ci sono tanti aneddoti in merito, però. E la classica Letizia Francescana. Ecco, bravo. La Letizia Francescana. Proprio vedevo in lui un uomo di... Ecco, perché io dico che non ci sarà... Almeno io, finora, non ho toccato un uomo di Dio grande come... Perché era grande nella vita interiore. E diceva, ancora a Padre Pio non lo conoscono. Devono conoscere la vita interiore di Padre Pio. Quello che lui faceva, io lo vivevo, diceva lui. Angioretta, noi ci auguriamo che ovviamente, anche sull'esempio di Framodestino, oltre che di Padre Pio e di tutti i santi che la Chiesa ci propone, possano nascerne ancora di questi grandi esempi. È uno dei motivi per i quali li additiamo appunto ogni giorno come punti di riferimento nella nostra vita spirituale. che è un grande esempio. Non ci sarà... Per me, dico, un grande esempio perché con la vita interiore intessuta d'amore per Gesù, con Gesù, lui diceva, ecco perché ho detto che viveva con Dio perché lui diceva che era sempre lassù con lo spirito. Diceva, io sto parlando con te, ma il mio spirito è lassù. E quindi questo fa capire tutto. Quindi viveva di Dio. Viveva. Grazie, Angioletta, della tua testimonianza, delle tue parole. Noi vogliamo lasciarci con la voce di Fra Modestino. Ascoltiamo un frammento di quella che è una lunga intervista che a suo tempo realizzò il nostro direttore Stefano Campanella proprio a Fra Modestino in cui raccontava tanti aneddoti legati alla sua vicinanza con Padre Pio. Ascoltiamolo. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Il crocifisso con cui tu benedici quelli che vengono a trovarti te l'ha dato Padre Pio? No, me l'ha ben detto lui. L'ha su due crocifissi. Uno me l'ha ben detto lui. Un altro preso l'ho stato ben detto da... cioè sul Santo Sepolcro. Ci ho parlato un po'. Questi po' vengono da un po' da me. Cosa ti chiedono tutte queste persone? Queste persone, i loro guai. Ma hanno bisogno di un consiglio, di preghiere? Perché siccome sono stato dicendo a Padre Pio tanti e tanti vengono a raccontare. Padre Pio diceva un'anima diafro mi stia stia serena. La folla che sta davanti a lui e lei non lo sa. La folla che sta davanti a lui sono io che le mando. E tante anime, tante anime che mi dicono mi ha mandato Padre Pio. Padre Pio mi diceva e allora questa folla che ognuno mi diceva io amo le anime come amo Dio, amo Dio come amo le anime. Questo testamento direi che me l'ha passato a me. Testamento che per le anime tutto, la vita, tutto, e avendo permesso da lui nel 56 anni mi conversavo Padre posso offrirmi con l'emolazione d'Olocausto e la vittima per le anime di tutte le anime? E lui mi diceva no. Non la risposta ma mi ha mandato il permesso e continua questa per le anime. Che lui dice io amo le anime come amo Dio, amo Dio come amo le anime. e ognuno ognuno c'è i propri problemi. Poi prendendo con sfurezza con l'amore perché fa notare questo fuori prima che vada a lavorare là sto male a tosi cervicali a tosi lombari a tosi cinocchi e tutto il resto dei mali appena che attacco al mio ufficio di lavoro diceva le anime posso fare 48 o tutta l'altra non sono stanco mai perché lui come sta vicino e tanti mi manda padre Pio nel sogno parliamo di trovarla così a uno di Genova era stato 15 giorni fa un giorno prima vada a Framossino mi dicevo sono stato 15 giorni vada a Framossino vada a Framossino che mi mando io questo un problema che si era dimenticato da Framossino da Genova un problema che si era dimenticato che le torturavo la coscienza e lo vedo che il suo aiuto non mi manca se no è impossibile io ho 86 anni mi alzo alle 4 meno 4 la mattina fino a mezzo la sera quasi tutto inattivato 17-18 ore al giorno e perché poi la sera ricevi le telefonate in camera? toco la linea se no non fanno dormire però questo è bello le anni la gioia così però le anni bisogna comprenderle la guardando quelle di 15 anni io mi fanno 15 anni che ci ho passato 30 anni 30 anni quelle di 40 anni 40 anni si ho comprenderle poi la sicurezza io ci ho permesso da lui come fare i figli spirituali quando mi ho conversato qui in sacrazia un ciole gli disse padre posso fare i suoi figli spirituali? e lui mi sposo che cosa ogni anima recitare una corrosare per le sue intenzioni poi se hanno le sue intenzioni e lei ci deve assistere e spiegare a me poi la tiglia la canta del braccio così va forte dice ma io posso rinunciare a questo grande beneficio farlo io vi assisterò permesso da lui la volta mi disse mentre l'accompagnavo all'acqua quanto più si può perché sono più beneficati loro davanti a Dio poi è uscito il rosario dalla tomba e questa possibilità di diventare figli spirituali attraverso questo sistema ha cominciato con tre persone adesso sono 500-600 mila persone grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.